Per Daily Basket Lega 2 siamo qui con Niccolò Martinoni, Casale ancora una volta sconfitto in volata, cos'è che non è andato per il verso giusto oggi? Diciamo che quando sei in casa e hai la palla per la vittoria non riesci a sbagliare il tiro, secondo me sono cose che possono succedere. Chiaramente è stato un altro giocatore che ha fatto più punti stasera a 39, perciò secondo me sono più le volte che quel tiro entra quando esce. Chiaramente alla fine dall'overtime abbiamo commesso un errore sull'ultima rimessa e l'abbiamo pagato caro.